Ciao a tutti ragazzi, vi proponiamo un video gameplay di Titanfall, ne abbiamo già fatti diversi ma questa volta invece vi facciamo vedere la versione PC sulla quale abbiamo messo le mani da ieri notte praticamente, quando i server sono stati aperti. Le differenze sono naturalmente grafiche, questo si sapeva già, ma ci sono anche alcune osservazioni interessanti dal punto di vista del sistema di controllo che andiamo a vedere tra poco. Cominciamo però dalle impostazioni grafiche che sicuramente sono interessanti per tutti coloro che giocano su PC. Abbiamo la possibilità di impostare la razza dello schermo tra 16 noni, 16 decimi e 4 terze, quindi tutto il range possibile e immaginabile che poi ci dà accesso a tutte le varie risoluzioni. Abbiamo le impostazioni dell'anti-aliasing che parte da zero e poi ha un bel numero di diverse impostazioni. Abbiamo il V-Sync che può essere acceso o spento, il Field of View che può essere aumentato fino a 90, la 70. Abbiamo una Texture Resolution che arriva fino ad insane, parte da low, quindi praticamente sono 5 impostazioni. Abbiamo il Texture Filtering che parte dal bilineare e trilineare, poi abbiamo i vari anisotropici 2, 4, 8, 16. Abbiamo la possibilità di impostare in high o in low tutta l'effettistica, quindi le ragdoll, i segni dei proiettili sui muri, il dettaglio dei modelli, gli effetti in generale, le ombre e l'illuminazione. Diciamo che è un buon menu di configurazione con diverse impostazioni, compreso il Field of View che ha molti che giocano di spara tutto, interessa molto. Per informazioni sto giocando su un PC di fascia media però di un paio di anni fa, insomma parliamo di quasi 3. Parliamo di un E5 2005, GTX 660TD con gli ultimi driver Nvidia ottimizzati per Titanfall e 8 GB di RAM. Con questa configurazione la resa è molto buona, ci sono un po' di cali di framerate, in generale il framerate non è incredibile, non cali drammatici, però ogni tanto c'è qualche incertezza. Pensavo che potesse dipendere dal PC, invece parlando con un po' di amici e colleghi che stanno provando il loro gioco su PC, diciamo che ci siamo resi conto che probabilmente è proprio una questione di ottimizzazione, il resto del gioco è stato appena rilasciato, quindi sicuramente Respawn arriverà con dell'ottimizzazione ulteriore, magari insomma anche Nvidia una seconda tornata di driver con ulteriori ottimizzazioni per Titanfall le farà. Ora andiamo a giocare una partita della campagna per parlare un po' invece del sistema di controllo. Gli sviluppatori, insomma, in generale diciamo che la versione PC di Titanfall dà l'impressione che gli sviluppatori si siano impegnati molto nel rilasciare una buona versione PC, con tante opzioni che facessero contento il pubblico dei giocatori PC, che è sicuramente sempre molto esigente. Ora la scelta principale quando si inizia a giocare a Titanfall su PC è quella se usare mouse o tastiera oppure il pad. Sono supportati diversi pad, ma nel caso si giochi con quello 360 con adattatore wireless, si ha anche la possibilità di sfruttare un aim assist. Questo aim assist non è a scelta del giocatore, cioè viene attivato automaticamente, non c'è un'opzione che permetta di spegnerlo, e aveva destato un po' di preoccupazioni perché molti ritenevano che avrebbe potuto essere una semplificazione eccessiva per chi giocava con il pad. Ed effettivamente su un aim assist il rischio c'è sempre, a seconda di come viene bilanciato. Per quello che ho potuto provare da ieri notte sino ad oggi praticamente, il lavoro di respawn in questo senso è stato molto attento. Effettivamente c'è una correzione della mira, ma è davvero difficile da notare persino giocando. E farla vedere a maggior ragione non sarà assolutamente semplice, adesso farò del mio meglio per cercare di spiegare come funziona. Non è uno di quegli aim assist che seguono il bersaglio, fortunatamente anche perché in quel caso sarebbe stato troppo marcato il vantaggio. Semplicemente c'è un'area attorno all'ipotetico bersaglio, che è molto delimitata tuttavia, entro la quale il aim assist si attiva e sposta leggermente il mirino nel punto giusto. Ripeto, anche giocando, probabilmente se non lo si fosse saputo dall'inizio se ne sarebbero accorti veramente in pochi, perché è una cosa piuttosto impercettibile. Allo stesso tempo sicuramente fornisce un vantaggio a chi gioca sul pad, controbilanciato però dal fatto che chi gioca con mouse e tastiera per forza di cose è più preciso e ha la possibilità di girarsi molto più rapidamente. Sembra che si sia fatto un bel lavoro in questo senso. Sembra che il bilanciamento sia stato portato avanti in maniera molto molto attenta e anche giocando con il pad ad item 4 ci si sente più che competitivi nei controlli di altri giocatori. Ora naturalmente quando si gioca non c'è possibilità di sapere chi sta giocando con il pad, chi sta giocando con il mouse e la tastiera. Però insomma, considerato il fatto che molti giocatori PC sono affezionati alla questione mouse e tastiera, si può ipotizzare che ci siano in giro comunque un certo numero di persone che stanno facendo con la tastiera. Ora vedete, semplicemente mantenendo lo strafe c'è stato l'aggiustamento di mira perché già ormai il bersaglio era mirato. Adesso cerchiamo di farlo vedere ancora meglio, sempre magari sfruttando gli NPC perché naturalmente gli NPC sono molto lenti e molto poco mobili, quindi è più facile farlo vedere con gli NPC. Una volta che ci si mantiene con il mirino all'interno di una certa area, c'è un leggero aggiustamento. Vedete, questo è semplicemente con lo strength e viene mantenuto all'interno. Sembra proprio un lavoro fatto bene, quello di respawn. Ecco, dal punto di vista grafico invece naturalmente state già notando indubbiamente quelle che sono le differenze rispetto alla versione Xbox One se avete avuto modo di vederla, quindi sicuramente ci sono delle differenze nel comparto di illuminazione. Ci sono delle differenze nella nebbia che tra l'altro è abbastanza onnipresente in Titanfall, che sia leggera o che sia più spesso. Ecco, è un esempio abbastanza pratico. Nelle mappe si è fatto un ampissimo utilizzo di effetti di fume e nebbia, proprio per una scelta stilistica. E naturalmente questo su PC ottiene una resa grafica migliore. Ecco, anche lì c'è stato un po' di aggiustamento dell'iMust, sicuramente qui l'avete notato. Io non stavo spostando la visuale e si è mantenuta comunque una mira abbastanza precisa. Per il resto, naturalmente, il gioco mantiene esattamente le stesse caratteristiche che ha su console next-gen, mentre invece ci è mancata ancora la possibilità di provare con mano la versione Xbox 360. Dovremmo essere molto vicini all'arrivo di una copia Xbox 360 e pensavamo proprio di fare una cosa analoga per Xbox 360. Quindi un gameplay commentato che vi permetta di vedere quelle che sono le caratteristiche della versione Xbox. Così dopo avrete il range totale dell'offerta di Italfall, conoscerne tutte le caratteristiche. Ecco, relativamente al gioco con mouse e tastiera, da ieri notte ad oggi ho avuto un modo di provare entrambe le configurazioni. Per quanto sicuramente nell'ambito di uno sparatutto online la soluzione mouse e tastiera possa essere quella prediletta, ecco, e ha ragione insomma, C'è da dire che i controlli di Italfall sono di più rispetto a quelli di un normale sparatutto, perché c'è la doppia gestione del Titan e del pilota per tenere in conto, ognuno con le proprie abilità, poi ad esempio c'è il tasto per impostare l'intelligenza artificiale del Titan, ci sono tante variabili di cui tenere conto, che rendono il numero totale di tasti necessario per giocare a Italfall superiore, rispetto a quello dello sparatutto medio. Conseguentemente, con Titanfall secondo me ci si può trovare molto bene, nel caso si disponga di una tastiera con un po' di tasti aggiuntivi, o magari di un mouse con un po' di tasti aggiuntivi, o una o l'altra cosa, insomma, già 4 tasti extra sul mouse possono essere un buon punto di partenza per impostarvi un po' delle funzioni tipiche del Titan, altrimenti si rischia di trovarsi con ciò costretti ad utilizzare tutti i tasti che stanno intorno al WSAD praticamente, quindi la Q, la E, la Z, la X, la C, per impostare tutte le altre funzioni. E questo, insomma, giocando, poi è chiaro che uno memorizza alla fine, accumulando ora il gioco. Però, insomma, all'inizio può essere un po' scomodo rispetto a quella che è l'esperienza con Battlefield, piuttosto che con il T. Quindi, insomma, il pad... cioè, il fatto di aver lavorato così tanto su un'ottimizzazione che permettesse alle persone di giocare con il pad non è stato tempo perso, non è stata una scelta stupida, è stata in realtà una cosa molto intelligente, e che per quanto... cioè, nelle ancora poche ore che poi abbiamo avuto modo di testare questa versione PC, sembra dare veramente buoni risultati. Vi invitiamo anche proprio a provare voi con mano. Relativamente alla compatibilità di questa cosa soltanto con il pad Xbox 360, ora, è una notizia che io riporto da dei forum, onestamente, perché io non ho la possibilità, non ho in questo momento tra le mani un pad diverso da quello wireless di 360 classicissimo, e quindi non so, onestamente, effettivamente, come sia la questione nel caso si utilizzi un altro pad. Si diceva, appunto, su alcuni forum, per quello che ho potuto leggere, che la prova con altri pad sembra che l'AIM Assist non si sia attivato. Lì, naturalmente, bisognerà fare un po' di test, quindi nel caso abbiate un pad diverso da quello wireless di 360, l'unica è cercare di informarsi su internet facendo un po' di ricerca, adesso poi nei prossimi giorni, naturalmente, le discussioni sul gioco diventeranno facilmente reperibili, insomma. Cercare, magari, qualche ricerca mirata con il nome proprio del pad che possedete e relativamente a Titanfall dovreste trovare abbonnante informazioni relativamente alla questione AIM Assist. Sicuramente giocare completamente sprovvisti di AIM Assist contro chi sta giocando con mouse e tastiera rischia di finire molto male, insomma. Un po' come sto per finire io contro i Titan. Rischia di essere una... rischia di diventare una questione un po' problemata, insomma. Per sempre, mouse e tastiera sono molto più precisi e rapidi proprio nella gestione dello sguardo, che è fondamentale per uno sparatutto. L'impatto grafico sicuramente è buono. Sono rimaste di base le texture in bassa definizione che già si vedevano su Xbox One. C'è da dire che, appunto, il PC può contare su tutta una serie molto più importante di filtri ed effettistica ottimizzata e, in generale, una risoluzione complessiva più alta perché, comunque, non dimentichiamo che su Xbox One il gioco gira a quella strana risoluzione che sono 792p mentre invece, naturalmente, su PC si può tranquillamente aumentare questa risoluzione. È interessante come il gioco permetta anche di cambiare il data server di cambiare il server al quale ci si collega naturalmente sceglie automaticamente quello con il ping più basso ma se uno, proprio per puro masochismo volesse andare a giocare con un ping da 250 millisecondi contro gli americani è liberissimo di farlo o, semplicemente, scegliendo l'opzione nel primissimo menu che si avvia quando parte il gioco. Altra cosa che aveva destato un po' di preoccupazioni era il netcode addirittura ci sono un po' di testate straniere che erano uscite con la recensione senza voto perché volevano prima verificare quale fosse la qualità del netcode del gioco. Allora, i server sono partiti ieri a mezzanotte in tutta Europa e la situazione, almeno per quella che è stata la mia esperienza personale, è molto buona nel senso, non ho avuto disconnessioni ero agganciato con un ping da 40 circa mille secondi quindi non eccezionale ma neanche da buttare via non ho avuto particolari fenomeni di lag forse giusto qualcosina in alcuni momenti ma niente di eccezionale quindi la situazione sembra molto buona su One c'è stato il piccolo problema che il live ha deciso di non funzionare proprio nel giorno di lancio di Titanfall però questa cosa non dipendeva da Titanfall ma dipendeva esclusivamente da Microsoft e a parte questo però anche su One la situazione mi è sembrata molto molto positiva io sto un po' alternando in questi giorni sto giocando sia da una parte che dall'altra per fare un po' tutti i debiti confronti ma sembra proprio che la situazione del netcode sia positiva e che i server abbiano retto la botta di persone che sono entrati tutti insieme il giorno di lancio i preordini erano pareva in un numero discreto non erano proprio numeri confermatissimi però insomma sembrava che i preordini non fossero pochi soprattutto su Xbox One ovviamente ciò nonostante la situazione sembra avere retto qui vedete chiaramente insomma una differenza di definizione e di rendering notevole rispetto a Xbox One che era un po' quello che dicevamo prima ecco probabilmente si nota anche se è un video insomma qualche leggera incertezza nel framerate sono sottili sono sottili non sono cali grossi però insomma ogni tanto perde qualche perde qualche punto bisognerà capire appena arriva un po' di un po' di ottimizzazione quanto effettivamente si può si può tirare su la questione del framerate ma ripetiamo con un motore come il Source non dovrebbe essere non dovrebbe essere problematico in più almeno da questa da questa prima da questa prima impressione sembra che il team di Respawn ci sappia fare comunque con con la questione dello sviluppo su PC quindi le speranze per dei buoni risultati ci sono vedete anche la realizzazione della polvere sollevata con allo stesso tempo l'illuminazione più discreta insomma come resa generale mancano le ombre invece dei personaggi però avete visto in questa zona un po' di pop up eccolo vedete come come compaiono un po' di oggetti succede spesso è proprio è proprio gestito così insomma ci sono degli elementi magari di contorno che compaiono soltanto quando quando ci si è vicino diciamo che poi nel nel calore delle battaglie la cosa si nota molto molto cerchiamo magari di beccare qualche altro NPC isolato ma se purtroppo non abbiamo NPC cercare qualche NPC isolato per farvi vedere eccolo questo è solo con lo strafe c'è una quella leggera correzione che dicevamo prima insomma vedete proprio c'è un leggerissimo trascinamento del crosshair verso il verso il non è davvero non è davvero niente non è davvero niente di eclatante e ripeto la sensazione la sensazione di uso anche una volta che si sa che questa cosa c'è non non sembra assolutamente eccessivo naturalmente non c'è invece alcuna differenza per quanto riguarda la natura assolutamente statica delle ambientazioni questa è proprio una caratteristica del gioco anche su console ma del resto è anche una caratteristica del source mi spesso che non è che abbia mai sopportato chissà quale tipo di distruttibilità e conseguentemente gli ambienti sono e rimangono praticamente granitici a qualsiasi tipo di azione il giocatore compie e su PC la situazione non cambia in un carnaio di titan e avete visto comunque nonostante la situazione è abbastanza concitata come il framerate alla fine non abbia avuto cali cali pesanti nonostante in quel momento a schermo insomma ci fossero un bel numero di cose di movimento effetti luci e via e via discorre ecco quando invece come esattamente in questa sequenza quando ci si avvicina molto agli oggetti ecco lì soprattutto ad alcuni oggetti lì si nota proprio terribilmente la la quantità di texture in bassa definizione è notabile stavo cercando con un altro NPC di far vedere la questione dell'aggiustamento della mira che non che non sta molto mal No se tutto va bene, la disponibilità della versione 360 dovrebbe arrivare domani o tuttanto due dopodomani e quindi finalmente potremo far vedere come se la cava anche in quel caso Titanfall dopo che abbiamo confermato che il lavoro su PC sembra essere stato perfetto bene. Ancora un pochino di ottimizzazione però diciamo che attenzione, un piccolo bagno ancora un po' di ottimizzazione però diciamo che è un solido punto di partenza, solidissimo anzi dire il vero, considerato poi certi lanci insomma recenti di vari giochi usciti in condizioni quasi ingiocabili, diciamo che ci sono ottime speranze per il futuro di Titanfall dal punto di vista qualitativo su PC. Vedete anche la qualità degli sfondi, anche comunque come non perda in definizione anche nel caso dei campi nuovi insomma, mentre invece su One diciamo che si nota sicuramente una terza di dettaglio, soprattutto appunto proprio sui campi nuovi. Anche gli interni insomma diciamo che ci hanno guadagnato molto, oltre agli esterni con i campi lunghi ma anche negli interni, soprattutto in questi corridoi che sono ricchissimi di luci ovviamente sono state proprio messe ad arte, ma anche questo lens flare abbastanza pronunciato e la nebbia soprattutto, diciamo che riescono a nascondere molto bene il discorso texture che invece è quello più problematico sicuramente per la quantità di texture in bassa che ci non è poca, però insomma hanno fatto veramente un buon lavoro da quel punto di vista, sono riusciti a mascherare un bel po' tutte le problematiche delle texture, sono fatto un lavoro ad arte che denota anche una certa esperienza da parte di chi la fa, sicuramente è così. Poi qui, questa è una pratica dimostrazione di come le mappe di Titanfall nascondono sempre un grandissimo numero di percorsi alternativi che è proprio il caso di andarsi a trovare perché ad esempio questo giochetto in una partita di Capture the Flag può fare tutta la differenza del mondo, e comprese anche le zip line, che sono un'altra cosa, un'altra aggiunta molto carina alle mappe, con la possibilità di continuare a sparare tra l'altro mentre si sta attaccati a la zip line. Comunque come vedete la nebbia è sempre sempre presente, anche sul campo lungo insomma, e anche sugli esterni, in quasi tutte le mappe, c'è qualche mappa più chiara, adesso questa poi ovviamente hanno voluto dare anche l'effetto del sollevarsi della sabbia insomma, c'è qualche mappa più chiara ma in generale la nebbia è un elemento abbastanza importante nello sistema grafico scelto da Dark Spawn. Comunque insomma, confermiamo nel complesso un verdetto positivo per la versione PC di Titanfall, quindi è stato fatto veramente un buon lavoro. era un po' quello che... era un po' la prova del 9 insomma, dopo che ultimamente ci sono stati un po' di... accade spesso, ecco che le versioni PC a volte vengano trascurate anche per una questione di... brutalmente di numero di vendita insomma, e invece in questo caso si può dire che... per Spawn abbia fatto veramente un buon lavoro. e anche a bordo del Titan e in questo momento ecco, questa è una scena particolarmente pesante dal punto di vista... esplosioni, effetti eccetera eccetera ma... frame rate ha tenuto senza fare storia. E forse ce la facciamo anche lasciare la partita ancora più interi, miracolosamente... sembra proprio di sì, per un pena. Molto bene ragazzi, allora... con la versione PC di Titanfall direi che abbiamo esplorato tutte quelle che sono le caratteristiche principali. Avete visto come l'E-Massist sia stato implementato in maniera molto interessante e come le impostazioni grafiche siano piuttosto estese e in generale la qualità del rendering è molto buona. A presto quindi per invece qualche parere sulla versione Xbox 360 che è l'unica che finora non è stato possibile vedere. Ciao!